E' già capitato di dire... Possiamo fermare al Manchester City, il messaggio di Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, alla vigilia della decisiva sfida di Champions allo Stadio San Paolo. Accanto a lui Edinson Cavani per la consueta conferenza stampa pre-partita. Un pre-partita davvero infuocato, anche per le dichiarazioni di Mancini. Il City, primo in classifica, continua a mietere vittorie. Il Napoli, che stenta in campionato, prova a vincere la partita più importante della sua stagione. Forse la più importante anche per la vita di Mazzarri, il quale comunque alla fine cerca sempre di tenere bassi i toni. Affrontiamo questa partita coscienti di aver fatto nell'ultima gara, soprattutto nel secondo tempo, una grande partita contro la prima della classe, che era Lazio. E ci è mancato solo quel pizio di fortuna che ci vuole per vincerla. E noi bisogna fare riferimento al secondo tempo che abbiamo fatto contro la Lazio. E fare anche qualcosa in più, perché sappiamo che davanti abbiamo una squadra con dei valori tecnici, come mi è già capitato di dire, ai massimi livelli del calcio mondiale. Per me tutte le partite sono sempre molto importanti. perché se faccio questo mestiere, perché amo il calcio e perché voglio quello che faccio. Quindi so che ho giocato tante partite importanti, però sempre quella importante è quella che arriva. Quindi al di là che giochiamo contro i grandi campioni, come ci stanno al Manchester, per me è una partita importante, perché ci servono i punti, perché stiamo giocando una competizione molto importante a livello mondiale come la Champions, e perché io credo che in questo momento per noi, Andre Bebe, non bene, sino che benissimo una... Grazie.